Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Iniziamo! In questo video parlerò di tutte le scarpe di tendenza e quindi di tutti i modelli must have delle sfilate, i sneakers, i sabò, stiletti vertiginosi, ballerine, il must infatti è indossarne nude e il raso, i camperos, bellissimi con gonne oppure jeans a vita alta e altri modelli ancora che andremo a vedere più dettagliatamente. Primo modello sono le scarpe con il tacco, sandali scultura, sabò vertiginosi, mules ed anche Mary Jane. Mary Jane sono le scarpe chiuse davanti che possono essere sia basse che alte con il tacco grosso e con i cinturini intrecciati intorno al collo del piede. Li troviamo in pelli ed anche in versione tessuto, impreziositi da cristalli, ricami e applicazioni. Il denominatore comune qual è? Farsi notare! Secondo modello le décolleté e le slingback. In cosa consiste? Consiste in tacchi a spillo e punta fusolata con inserti di pelle anche qui, fiocchi, fantasie varie, dettagli e effetto ed anche bande elastiche. Le slingback, apro questa parentesi, sono le scarpe con il cinturino che lascia il tallone scoperto e con la punta chiusa che copre le dita. Ovviamente dovete stare attente all'effetto invecchiamento perché potrete sembrare over 50. Se siete amanti dei tacchi e sopportate il dolore vanno benissimo le décolleté vertiginose. Se invece non siete tipi da tacchi, siete tipi più comode e più semplici, allora optate per le slingback basse e andrete sul sicuro. Un altro modello sono i sandali e i sandali sono must have da avere obbligatoriamente nel proprio guardaroba. Li troviamo a bande incrociate, a listini sottili e a fascia. Il tocco cool e odace qual è per indossarli? È mettere un calzino come ci suggerisce la Maison Fendi. Passiamo ad un altro modello, ossia le scarpe con plateau e dalle zeppe. Questi sono i modelli in assoluto più versatili, strategici, perché riusciamo ad essere alte, soprattutto noi ragazze piccoline, ma allo stesso tempo comode. Si vestono di nuanze vitaminiche e di pattern motivi variegati. Passiamo ora ai mocassini. Abbiamo visto un grande ritorno dello stile borghese sul mondo dell'avviamento attraverso le gonne al ginocchio, i foulard annodati al collo e le borse a mano. Ed ora questo stile borghese arriva persino sulle scarpe attraverso i mocassini. I più ambiti quali sono? Sono proprio questi qui di Prada con tacco grosso e fibbia gold. Passiamo ad un altro modello che adoro, gli stivali. Per questa prima mera estate 2020 vanno tantissimissimo i miei adorati stivali. I modelli più gettonati sono quelli con il gambale ampio e morbido e con il tacco alto, con tonalità neutre o pastello. E anche i camperos che abbiamo visto l'anno scorso e che quest'anno sono tornati alla grande. Come abbinarli? Con gonne o jeans a vita alta. Passiamo ad un altro modello, le scarpe basse. Ebbene sì, tutte le ragazze che amano la comodità e odiano i tacchi saranno felicissime perché sono tornati tutti i modelli flat. Le classiche ballerine, con senza cinturino, i sabò, in pelle, raso, tessuto, le spadrias e i lofar. Una sorta di mocassino ballerina. Possiamo vedere questo modello di Giambattista Valli. Passiamo ora alle sneakers. Lo stile sporty chic inonda non solo il mondo dell'avviamento ma anche il mondo delle scarpe. Sono state riproposte le chunky sneakers chiamate anche simpaticamente ugly sneakers, cioè scarpe brutte, proprio per la loro forma, cioè la sua scala spessa e di gomma. Solo che a forza di vederle in mille riviste di moda o sulle foto che scorriamo su Instagram, ora sono diventate le scarpe più in. Tornano anche le scarpe da tennis in sweat, in tessuto o in pelle. Tadadan! Passiamo ora al modello preferito della sottoscritta, ossia i sandali alla schiava o, più comunemente conosciuti, i sandali con i lacci. C'erano già stati proposti timidamente la scorsa stagione. Ora sono tornati alla grande. Vi troviamo bassi, flat, con il tacco medio oppure a stiletto, se vogliamo essere super audaci. Come abbinarli, come indossarli con look sia audaci che look più casual perché sono super versatili. Modello che amo di più, modello che detesto di più. Per me è no. Cioè l'ethno chic. Ora ci addentriamo nel mondo esotico. Scarpe di rafia, cuoio e corda. Li possiamo abbinare con il look più basic perché ci faranno sentire sempre in vacanza. Possiamo ispirarci ai modelli di Hermes ed Alberta Terretti. Ultimo modello, gold fever, ossia le scarpe d'oro. Sì perché il gold quest'anno è di grande tendenza. Lo troviamo in accessori, borse, occhiali e pezzino scarpe. Grazie ai riflessi dorati i nostri sandali sembreranno dei piccoli gioielli. Questo video per oggi finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale o anche Instagram e TikTok. Sono curiosa di sapere qual è il vostro modello di tendenza preferito. Ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!